Lo spin di una particella è uno dei concetti più astratti da capire in qualunque corso basi di scienza dell'atomo. Spesso se ne dà una rappresentazione intuitiva o semiclassica come il risultato della rotazione della particella attorno al proprio asse, lasciando però spesso e più curiosi tanti interrogativi. Un secolo di tiragontistica dei campi ci ha invece aiutato a comprendere che la biglia rotante in realtà è solo un'approssimazione, seppur molto utile, di un concetto dietro al quale esiste da praticamente tutta la struttura e dalla nostra realtà. Cosa volete che sia? Ovviamente la relatività speciale. La scoperta che le particelle hanno uno spin è uno dei trionfi della fisica sperimentale. In sintesi, siamo in grado di dire che le particelle hanno uno spin prive del fatto che interagiscono con un campo magnetico proprio come farebbe un'aspira di corrente, cioè orientandosi nella stessa direzione del campo. Dire spin è infatti un modo intricato di dire questa particella ha un momento magnetico proprio come lo avrebbe un'aspira di corrente, ma la particella non è un'aspira. Quindi quale altra configurazione genera un momento magnetico simile senza essere un'aspira? Una sfera carica rotante. Ok, allora chiamiamo spin questa proprietà dall'inglese roteare. Dal punto di vista teorico però si rivela un po' intricato dare un'interpretazione di questo risultato. Solitamente per lo spin della particella si danno infatti tre interpretazioni, a un livello di astrazione via via più alto. La prima è l'interpretazione meccanica o intuitiva e deriva dalla semplificazione, il nome proprio corretta, che le particelle sono effettivamente delle sferette rigide e cariche elettricamente. Nella fisica classica un corpo elettricamente carico messo in rotazione attorno a sua asse genera un campo magnetico, che è quindi in grado di interagire con un campo magnetico esterno, determinando il comportamento di spin della particella. Si scoprì però che la carica elettrica di una particella non è una condizione necessaria affinché la particella abbia uno spin, serve quindi un'interpretazione migliore. La seconda è l'interpretazione quantistica. A ogni particella viene assegnato, praticamente come un postulato, un certo valore dello spin in base ai possibili risultati di un esperimento del tipo Stern e Gerlach. Ad esempio si dice che una particella spina un mezzo se un fascio di queste particelle finisce per separarsi in due. Da una parte le particelle con spin orientato come il campo magnetico e dall'altra le particelle orientate in direzione opposta. A differenza dell'interpretazione classica, ora anche particelle come il neutrone possono avere uno spin. La terza è l'interpretazione su cui ci concentrieremo in questo episodio. La fisica teorica interpreta lo spin come un risultato matematico che affonda le sue radici nell'unione tra relatività speciale e meccanica quantistica, cioè la teoria quantistica dei campi. Tutto nasce dalla simmetria di Lorenz, cioè la versione matematica di quello che solitamente chiamiamo principio di relatività. La fisica è fatta di fenomenologia e tali fenomeni sono studiati dagli osservatori, che possiamo essere tutti noi. Possiamo prendere righello e compasso e tracciare la traiettoria di un corpo sulla nostra personalissima cartina di coordinate. Un osservatore detto inerziale si può concordare con tutti gli osservatori che si muovono con velocità costante rispetto a lui su un fatto molto semplice. Un corpo esente da forze si muove di motori di lineo uniforme. Il punto però è che non esiste un osservatore inerziale più speciale di altri. Se io uso la mia cartina di coordinate e Pino si muove a velocità costante rispetto a me e uso la sua cartina di coordinate, dobbiamo comunque concordare sulla fisica dei fenomeni che stiamo osservando. Per cui deve esistere una trasformazione di coordinate che colleghi le mie coordinate con quelle di Pino, una traduzione da un linguaggio all'altro che però abbia la cura di preservare la struttura delle leggi fisiche. Questo è quello che ci disse Galileo con il suo principio di relatività. Due osservatori inerziali descrivono lo stesso fenomeno fisico usando le loro coordinate. La traduzione che lega i due sette di coordinate si chiama trasformazione di Galileo e lascia invariata in forma le leggi della fisica. Dopodiché venne Einstein e si accorse che le trasformazioni di Galileo non lasciavano invariata la velocità della luce vista da osservatori inerziali e siccome ciò era in conflitto con le leggi dell'elettromagnetismo, Einstein disse che la relatività di Galileo era solo un'approssimazione di un tipo di trasformazione di coordinate molto speciale, le trasformazioni di Lorenz. Le trasformazioni di Lorenz garantiscono che la velocità della luce sia la stessa per tutti gli osservatori inerziali dell'universo. Esiste quindi una struttura matematica ben precisa che permette di tradurre un sette di coordinate in un altro e tale struttura matematica lascia invariate le leggi della fisica ed anche la velocità della luce. È la simmetria di Lorenz. Puntualizziamo. Le leggi di Newton non rispettano la simmetria di Lorenz. Questo perché sono un'approssimazione. La struttura matematica rispetta invece la simmetria di Galileo. La relatività di Einstein si traduce praticamente in un principio di esclusione perché ci insegna appunto a escludere tutte quelle forme matematiche che possono assumere le leggi fisiche per descrivere il nostro mondo che non rispettano la simmetria di Lorenz. Una legge della fisica deve rispettare la simmetria di Lorenz. Questo non significa che le leggi di Newton siano da buttare, vanno semplicemente intese con una validità limitata. Cioè sono una buona approssimazione solamente per descrivere oggetti che si muovono a velocità molto inferiori della velocità della luce. Ora è il momento di connettere il concetto di spin con la simmetria di Lorenz. La chiave di questa connessione sta dentro l'enunciato di un teorema molto importante che ha a che fare con le simmetrie e le leggi di conservazione. Nella fisica ogni simmetria corrisponde a una quantità conservata e tale quantità si scopre essere matematicamente il generatore della simmetria stessa. Cioè gli operatori che trasformano gli oggetti sotto quella simmetria sono funzioni matematiche della quantità conservata. Questo è il risultato del teorema di Noether. La meccanica classica fornisce tre esempi immediati di simmetrie e generatori delle simmetrie. La simmetria per traslazioni implica la conservazione della quantità di moto. Matematicamente una traslazione nello spazio può essere generata dalla quantità di moto. La simmetria per rotazioni implica la conservazione del momento angolare. Matematicamente una rotazione nello spazio può essere generata dal momento angolare. La simmetria per traslazioni temporali implica la conservazione dell'energia. Matematicamente l'evoluzione temporale può essere generata dall'energia di un sistema. E così via. La relatività di Einstein ha postulato che il mondo debba rispettare una simmetria molto speciale, la simmetria di Lorenz. In questo caso la quantità conservata è una sorta di combinazione tra momento angolare e quantità di moto, che diventano quindi i generatori matematici della simmetria. Questi generatori soddisfano alcune regole di composizione matematica, che ci permette di rappresentarli in degli spazi matematici molto speciali. Infatti tali oggetti, vivendo in questi speciali spazi di rappresentazione dei generatori della simmetria, trasformano in un modo molto particolare sotto la simmetria di Lorenz. E questo ci permette di classificarli. Proprio per questione di comodità, i fisici hanno una passione particolare per classificare gli oggetti matematici proprio in base al loro comportamento sotto le trasformazioni di simmetria. E questo fatto ha permesso di fare il collegamento molto importante tra la catalogazione degli spin delle particelle, che è il risultato ricordiamo dello studio di come queste particelle si comportano nei campi magnetici, e i campi quantistici con cui scriviamo le nostre teorie Lorenz simmetriche. Le diverse rappresentazioni dei generatori della simmetria di Lorenz possono essere catalogate con degli speciali numeri interi o semi interi. Ad esempio, j uguale 0, 1 mezzo, 1, 3 mezzi, 2, eccetera eccetera. Sono proprio questi numeri a decidere in che modo speciale deve trasformare l'oggetto della rappresentazione jesima sotto la simmetria di Lorenz. Riassumiamo quindi per essere certi di essere tutti quanti a bordo. La simmetria di Lorenz ci mette a disposizione delle quantità conservate, cioè dei generatori, che possono essere utilizzati per costruire degli spazi matematici in cui far vivere gli oggetti con cui costruiamo i campi delle particelle. Il punto centrale sta quindi nel capire cosa significa dire che questi generatori hanno degli spazi di rappresentazione diversi in cui gli oggetti trasformano sotto la simmetria di Lorenz in maniere diverse. I generatori sono sempre gli stessi, cambiano solo vestito matematico in un certo senso, e questo modo di vestire caratterizza tutti gli oggetti che si possono costruire in quel determinato spazio matematico. Dire una particella trasforma in una rappresentazione j uguale 1 della simmetria di Lorenz è un po' come dire voglio caratterizzare quella particella in base al suo modo di vestire. Tra tutti gli abbigliamenti matematici possibili del generatore quella particella veste quell'abito in particolare. Alla fine è tutto un gioco di classificazione, ma non è un esercizio accademico, perché questo è letteralmente il modo in cui la fisica teorica è capace di catalogare tutta la zoologia infinita di particelle del modello standard. Infatti il passo successivo è costruire per ogni oggetto che trasforma nel suo modo speciale una teoria invariante di Lorenz, cioè una teoria che sia matematicamente simmetrica rispetto alle trasformazioni di Lorenz, cioè quella che nota essere una teoria quantistica di campo. I quanti d'ecitazione di questo campo sono proprio quelle particelle che sperimentalmente vanno a interagire con il mondo in base al valore speciale del loro numerino j, che all'inizio di questo video abbiamo chiamato spin. I campi costruiti con gli oggetti degli spazi j descrivono le particelle che conosciamo. Facciamo alcuni esempi. Possiamo descrivere particelle con spin j uguale 0 come il bosone di Higgs. Particelle con spin j uguale 1 mezzo, come gli elettroni, i protoni, eccetera. Particelle con spin j uguale 1 come il fotone. Lo spin è quindi un modo per dire come trasforma quella particella sotto simmetria di Lorenz? Le rappresentazioni j della simmetria continuano fino a infinito, nulla lo vieta. Tuttavia non abbiamo ancora osservato sperimentalmente particelle elementari con spin superiore a j uguale 1. Spero di aver reso l'idea di come lavorano i teorici per descrivere la realtà. Mi accorgo che questi non sono argomenti molto accessibili, anzi sono spesso poco trattati proprio per questo motivo. Il mio sforzo è quello di renderli più amichevoli possibili, proprio per soddisfare la curiosità di quelli che non si accontentano delle prime spiegazioni semplicistiche. Se il video ti è piaciuto ovviamente non dimenticati di iscriverti al canale e ricordati di condividerlo con le persone con le quali condividi la tua passione. Grazie per la visione, ci vediamo al prossimo episodio. Grazie a tutti.